Gambuzzi, è chiaro che dopo la sconfizza rimediata domenica scorsa con Luigi Virtus c'è soltanto un obiettivo per il Gela, si chiama vittoria, cominciando proprio da domenica prossima in quella di Castrovillari, perché finora il Gela, dati oggettivi alla mano, fuori casa è sempre fatto bene. Sì, peccato per domenica perché abbiamo dimostrato veramente di vincere, perché veramente il primo tempo abbiamo creato tantissimo, ci è mancato il gol perché abbiamo avuto tanta occasione sia con Tanassi, con Maurizio, con Corrado, Montalbano, però alla fine non è arrivato e abbiamo preso due gol con due tiri in porta, quella è la rabbia mia, però è andata così, stasettimana abbiamo lavorato bene per affrontare per me una buona squadra, Castrovilla è una buona squadra, ma se giochiamo così io penso che problemi non ce ne sono. Però è pur vero che vince chi la mette dentro, voi domenica non siete riusciti in questo intento? Eh lo so, lo so, però la squadra è viva, cioè l'importante è che la squadra è sempre viva, hai ragione, purtroppo vince chi la mette dentro, loro con due tiri ce ne hanno fatto due golli e hanno vinto la partita. Ecco, ritornare a Gela per te, qual è la sensazione che hai provato? No, beh, è una bella sensazione, io dieci anni fa avevo 19 anni, ritornare dopo dieci anni è la cosa più bella che uno poteva desiderare, perché conoscendo la piazza, i tifosi, gente importante come il presidente Tuccio, che hanno voglia di vincere, me subito, appena mi arriva dalla chiamata ho accettato subito. Dobbiamo nasconderci dietro un dito parlando di salvezza oppure il Gela può ambire e deve ambire a qualcosa di più? Ma noi ci divertiamo, noi siamo una squadra che bisogna divertirsi, ci sono tanti obiettivi, il primo obiettivo è raggiungere la propria salvezza e poi piano piano facciamo il conto alla fine, vediamo dove possiamo arrivare. La domenica scorsa abbiamo detto e continuiamo a dire che c'è una bella fotografia che noi abbiamo scattato, che è l'applauso del pubblico alla fine della partita nonostante la sconfitta. Il pubblico è il nostro dodicesimo uomo, ha dimostrato di stare accanto a noi, ripeto peccato per la sconfitta perché non lo meritano, però ringrazio i tifosi per quello che ci stanno dando e fino alla fine anche fuori casa ci danno. E domenica ricominciamo a vincere? E domenica dobbiamo vincere, questa è l'unica parola.